Chi deve aver paura di dirà? Ci sono i bastardi che hanno potere, sono quelli che da alcuni decenni continuano a assassinare i poveri del mondo con un cinismo, una violenza e una brutalità che non ha avuto uguali nella storia. Quindi lo Stato è sotto attacco, come dice la Meloni? Lo Stato è sotto attacco, non facciano ridere, siamo noi sotto attacco dello Stato, vediamo un po' la proporzione delle forze, Alfredo è veramente Davide contro Golia e per fortuna lo fa traballare, ma lui è Davide, è lo Stato Golia, non si può socappongerle cose, via, siamo seri. Nei legami che dicono che Cospito avrebbe stretto in carcere con dei boss dell'andrangheta e mafiosi? Alfredo era all'S3, c'erano compagni, lui non ha mai avuto rapporti con mafiosi, se lo mettono in un carcere dove tutti gli altri sono mafiosi, con chiunque lui parli è un mafioso, lui prendeva l'aria con un mafioso scelto dalla direzione del carcere perché non poteva stare in isolamento, non ha avuto mai nessun rapporto con mafiosi, non ha avuto niente a che fare con mafiosi, ripeto, noi non c'entriamo con i mafiosi. Grazie, basta, adesso basta. Grazie. Grazie.